Come si tratta di una scrittura contabile? C'è anche delle nostre nuove emergenze che sono quelle relative al bisogno di risanare il Comune. Cosa cambierà adesso per l'abilitazione comunale con questa approvazione? Cambia il fatto che intanto abbiamo regolarizzato una situazione che era rimasta in sospeso. Il bilancio consolidato è molto importante perché dà l'idea dell'insieme delle attività del Comune, soprattutto delle partecipate. Ci mette nelle condizioni di adempiere ai primi compiti, come ad esempio la regolarizzazione di una parte del personale. Ma soprattutto chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro.